Sono contento di poter parlare con qualcuno che mi capisce. Sai, qui c'è anche un'altra persona che mi capisce molto bene. Purtroppo i suoi sentimenti verso di me le hanno fatto cambiare personalità. Parli di Lady Yun. Adesso ho reso insicura la persona che mi era più vicina. Non ho più alcun diritto di parlare del futuro. Miliardo, io ti supplico, devi assolutamente salvarla. La tenerezza, la nostalgia, il rimpianto, la poesia. Quante cose sei questa sera tu? Che sei lontano, non mi pensi più. Sono malata ormai, ma non mi importa di guarire, sai. E l'onore più sublime, quello che mi fa soffrire. Sempre, sempre, quasi fino a diventare niente. E' la stessa da sempre, sempre, quasi fino a diventare niente. Sono amore, questo buio a cui non ci si affittua mai. Questa luce nell'animale, che nessuno può comprendere. All'animale, che nessuno può comprendere. All'animale, che nessuno può comprendere. All'animale, che nessuno può comprendere. Da qui posso commuovermi di nascosto al mondo. All'animale, che nessuno può comprendere. All'animale, che nessuno può comprendere. Sono luoghi del mio cuore. E sei tu ora quel mare, da cui mi lascio trasportare. Ma sempre, sempre, quasi fino a diventare niente. E fino a farmi diventare niente. Questa luce nell'animale, che nessuno può comprendere. All'imfuori, all'imfuori di te. Chi sono io, Lady Yoon, di Oz? O sono solo una pedina di trezzo? Chi è un'im Grazie a tutti